Ok, abbiamo esaurito anche la pausa pranzo, adesso ci manca ancora un'oretta, un'oretta e un quarto, dovrei finire tra le tre e mezza la presentazione che riguarda i temi di analisi tecnica, operativa, quantitativa. Prima di rientrare sui temi didattici della giornata, vi volevo far vedere come vengono effettuate le scelte operative a livello di trading giornaliero. Questa è una tabella operativa che viene generata da alcuni nostri software che in qualche modo identificano delle situazioni particolari che si sono verificate sul mercato chiaramente nel corso dell'ultima giornata. Questa tabella operativa ad esempio l'ho fatta girare ieri sera dopo che il mercato ha chiuso quindi sui dati aggiornati a ieri sera ed è la tabella operativa dal quale noi poi prendiamo spunto per costruire le strategie operative per la giornata prossima, quindi per la giornata di lunedì. Questa tabella operativa ha diverse colonne, ha chiaramente l'ultimo prezzo battuto dei 40 titoli del Fuzzi Mi40 e qui in mezzo vedete c'è anche l'indice Fuzzi MiB. Ha diverse colonne che possono essere raggruppate in un modo molto semplice. Le prime tre fotografano il tipo di tendenza in essere su questa attività finanziaria, quindi avremo trend rialzista, trend ribassista o trend laterale. E dove c'è il numero uno vuol dire che la condizione è rispettata per intenderci A2A, Atlante, Azimu, Generali e così via, sono tutti in trend rialzista. C'è un unico titolo ancora in trend ribassista sul nostro mercato che è Tenaris. Ci sono dei titoli in trend laterale che sono Enel, Exor, Mediobanca, Moncler e Saipem. Quindi questa è la fotografia da un punto di vista di trend delle varie attività finanziarie che un soggetto, un operatore intende monitorare. Poi ci sono dei titoli che venerdì hanno disegnato delle barre di accelerazione, quelle barre di breakout rialzista a cui abbiamo accennato questa mattina. In particolare abbiamo breakout rialzista su, se non vedo male, Banca Mediolanum, Biperbanca, CNH, Ferragamo, Italgas e Telecom Italia. Queste sono le barre che venerdì ci dicono che su questi titoli c'è stato un chiaro rafforzamento della forza dei compratori. Cioè abbiamo impostato dei criteri di selezione che sulla base dei prezzi, sulla base del posizionamento degli indicatori, sulla base dei volumi, mi identificano che lì c'è stato un chiaro rafforzamento dei compratori barra rialzisti. Poi ci sono tutte queste quattro colonne che sono, diciamo, marchiate di verde, che identificano situazioni di compressione di volatilità. Questo è un aspetto che non abbiamo affrontato questa mattina, abbiamo affrontato nell'incontro dell'11 marzo. Sappiate soltanto che molto spesso le compressioni di volatilità anticipano i movimenti impulsivi. Quindi devo in qualche modo andare a identificare quei titoli che è tanto tempo che sono, chiamiamolo, in un equilibrio, ma questo equilibrio da un momento all'altro sta per essere rotto, con i prezzi che o strapperanno a rialzo o strapperanno a ribasso. Quindi devo andare a identificare delle situazioni di, chiamiamole, di equilibrio instabile. Come vedete ce ne sono pochi i titoli che rispettano questi liquidi. C'è soltanto una situazione su, mi sembra di vedere, su Enel, su STM e UX, in cui c'è una situazione di moderata volatilità. Perché? Perché in questo momento il mercato nella sua globalità non è in un periodo di bassa volatilità, è un periodo in cui la volatilità sta aumentando e sta aumentando in maniera significativa. Quindi in un periodo come questo è lecito attenderci che ci siano pochi titoli in compressione di volatilità, molti invece in fase di trend. Poi ci sono nella parte finale di questa tabella tutta una serie di pattern grafici. Questa mattina vi ho detto, andiamo a analizzare quello che è successo nel corso delle ultime 1, 2, 3 giornate, delle ultime 1, 2, 3 barre e sulla base del posizionamento di queste ultime 2 barre potrei avere dei segnali interessanti, cioè dei pattern che mi anticipano che potrebbe succedere qualcosa nel breve termine sui titoli che vengono individuati. Non abbiamo nel tempo, nella possibilità di spiegare cosa significano i reversal, gli ML, i shooting, i swing. Era solo per farvi vedere che tipo di indicazioni può dare una tabella di questo genere. Nella parte finale c'è l'analisi della volatilità giornaliera, quindi mi dice mediamente qual è la volatilità del titolo oggetto di analisi e vedete che abbiamo dei dati abbastanza interessanti. Cioè abbiamo dei titoli che hanno una volatilità superiore al 3% con dei titoli che invece hanno una volatilità dell'1, 1,5%. Questo è un aspetto che è fondamentale da valutare per chi costruisce strategie operative. Perché se io so che mediamente quel titolo si muove tra massimo e minimo dell'1,5%, quello mi dà un'idea di che tipo di rischio ho di fronte perché un conto è operare su un titolo che tra minimo e massimo si muove dell'1,5% e un conto è operare con un titolo che mediamente si muove del 3%. Ci sono sicuramente più opportunità ma c'è anche un profilo di rischio che è significativamente più alto. Quindi il sapere che tipo di volatilità esprime l'attività finanziaria è sicuramente importante per poi operare. E se vengono scambiati nel trend ribassista o rialzista, in questo caso io dovrei dedurre da quello che abbiamo visto questa mattina che Tenaris sta scendendo e scenderà ancora. Tenaris è ancora in trend ribassista, nel senso che fotografando lo sviluppo grafico del titolo, questa analisi grafica ha una sequenza di minimi e di massimi decrescenti e quindi quella sequenza è ancora rispettata. Poi si va a guardare gli indicatori e si chiede che gli indicatori confermino questa tendenza ribassista e quindi da questa analisi emerge che questa tendenza è rispettata. E c'è poi l'analisi volumetrica. Questa indicazione, la parte volumetrica, qua dentro non c'è, c'è soltanto la parte grafica e quella quantitativa. La parte volumetrica viene effettuata in un secondo momento quando si va a guardare Tenaris e si fa un'analisi del volume profile, market profile, cioè di come si sono distribuiti i volumi nel corso della giornata. Perché è chiaro che ieri Eni, Saipem e Tenaris alla fine sono un po' rimbalzati perché il petrolio ha recuperato più del 2,5% a livello intra-day, tra minimi e massimi, è tornato a 46,50 e quindi sono rimbalzati. Ma nonostante questo recupero, diciamo, di ieri, diciamo, del comparto petrolifero, è un comparto ancora purtroppo in trend negativo. Sicuramente non è il comparto più forte del mercato in questo senso. La volatilità media è superiore al 2 mediamente, quindi siamo in un periodo di alta volatilità e a quel punto è scevra da una valutazione dei volumi, cioè solo volatilità, poi che c'è una media ponderale, non c'è qua, è una media semplicemente... È una media negli ultimi dieci giorni di quando quell'attività finanziaria si è mossa mediamente tra minimo e massimo. Indipendentemente dai volumi. Considerando anche la presenza di gap. Quindi si fa soltanto un confronto di media giornaliera, distanza tra massimo e minimo giornaliero nel corso degli ultimi dieci giorni. I volumi non vengono considerati, si parla soltanto di escursione dei prezzi. Quindi non è una media ponderale. Va bene, grazie. Poi c'è un'ultima colonna, che è una colonna particolarmente importante, che è la colonna della forza relativa. La colonna della forza relativa è fondamentale per poter fare delle scelte di investimento che abbiano una loro importanza, una loro significatività. Mi spiego. Ci sono dei numeri che vanno da 0 a 5. Diciamo che tralasciando il 0 o il 5, in realtà i numeri che non interessa sono il 2, il 3 e il 4. E sono colorati in modo diverso. E ve la spiego in modo molto semplice. I titoli che hanno l'1 e il 2, significa che sono titoli più deboli rispetto al mercato. Cosa significa? Significa che sono titoli che non riescono a tenere il passo con il mercato. Se un mercato sta salendo, significa che questi titoli magari si stanno salendo, ma non riescono a registrare la stessa performance del mercato. Ad esempio, se nel corso delle ultime due giornate il mercato è salito dell'1,5 giovedì e dell'1,5 venerdì, quindi è salito dal 3%, ci saranno dei titoli che sono saliti, magari dello 0,70 e dello 0,80 per un totale dell'1,50. Sì, sono saliti, ma sono saliti meno rispetto all'andamento generale del mercato. Quindi quel concetto di forza relativa mi fa dire sì, quel titolo ha un trend rialzista, ma è un trend rialzista probabilmente influenzato da un ambiente generale positivo del mercato, perché da solo è un titolo che non ha la forza di andare meglio del mercato, anzi va peggio del mercato. C'è il numero 3 che identificano la situazione in cui è un titolo in linea col mercato, ma i titoli più interessanti sono quelli che hanno forza 4 o meglio ancora 5. Sono i titoli che stanno sovraperformando il mercato. Vuol dire che se nel corso delle ultime due giornate, faccio l'esempio delle due giornate per farvi capire il concetto, il mercato è salito del 3, questi sono i titoli che sono saliti del 3,5, del 4, del 5. Quindi sono titoli che stanno salendo in virtù sicuramente del trend positivo espresso dal mercato, ma hanno anche una loro forza interna che in qualche modo li fa andare meglio rispetto al resto dell'estima. C'è una domanda? Grazie. Dopo arrivo anche qua. Sì, la domanda è questa. Volevo sapere se le caratteristiche delle azioni, quindi dei titoli che stiamo vedendo, mutano molto nel tempo oppure si conservano? Voglio dire, un titolo che è sovraperforma. Oggi lei ci presenta questa analisi sull'ultima settimana. Storicamente quel titolo ha sempre avuto quella caratteristica oppure no? No. Se la domanda è questa, la risposta è no. Ci sono dei periodi, facciamo ad esempio del comparto bancario, in cui il comparto bancario magari è nell'occhio del ciclone per varie vicende ed è un comparto bancario che magari va molto peggio rispetto al resto del mercato perché magari è colpito da vendite generali e quindi in quella fase di mercato è debole. Poi però le cose cambiano, perché poi il comparto bancario, se stiamo a questo esempio, poi magari viene da un periodo di lungo sotto performance, inizia una fase di accumulazione, poi si gira il rialzo, inizia un trend rialzista e prende forza. Questa forza in qualche modo si autoalimenta e il comparto bancario da sottoperformante che era diventa sovraperformante proprio perché è una cosa ciclica. Quello che tutto sommato rimane abbastanza stabile è il concetto di volatilità del titolo, nel senso che ci sono titoli o meglio settori che sono più aggressivi e titoli o settori che sono più difensivi. Snam, Terna, Italgas, per fare l'esempio degli utility, sono titoli prettamente difensivi la cui volatilità giornaliera storicamente è molto più bassa rispetto ad esempio ancora al comparto bancario. Queste caratteristiche rimane, il concetto invece di forza relativa è variabile, ma osservando giorno dopo giorno l'ultima colonna di questa tabella ci si accorge anche degli spostamenti che vengono effettuati a livello settoriale. A un certo punto si vede che il comparto bancario smette di sovraperformare, inizia ad andare in linea col mercato, poi improvvisamente fa peggio del mercato. Lì si capisce che in qualche modo gli istituzionali hanno abbandonato quel comparto, sono usciti e magari ci si accorge che nel frattempo il comparto energetico da debole che era inizia a diventare forte. Sì, scusami. Questa tabella è un esempio che ne hai già fatto su un'area dei veneti. Sì. E tu la comunicati da qualche parte ai giornali? No, questa è una tabella diciamo interna che utilizziamo per poi in qualche modo fare le nostre analisi, le nostre... No, se vuole se le fanno solo. Sì. Questa viene fatta con un software che si chiama Metastock, un software di analisi tecnica, ma si può fare su altri software tipo Visual Trader, ProRealTime, qualsiasi altro software. Ci sono i filtri, in senso affinché io possa dire che un titolo è in trend rialzista. Quali sono i filtri che devono essere rispettati? Si impostano le varie condizioni e lui a seconda diciamo se la condizione viene rispettata o no si attiva o si disattiva. L'indicatore di portare la spiglia è una domanda, se è pubblicata la propria parte, la seconda domanda è quanto è diverso l'aggetto del fatto? Allora, viene pubblicato, abbiamo un report, che si chiama MF Trading Guide, lì viene pubblicato, non questo, però, diciamo, quello che vedete qua in questa tabella, leggermente modificato, nel senso che questa tabella, per sintetizzare, è mia. Quella che vedete su Milano Finanza è di Milano Finanza. Il concetto è molto simile, sintetizzo senza entrare troppo nel dettaglio. Quella che trovate su Milano Finanza va a guardare quante volte nel corso di un certo arco temporale un titolo ha battuto il mercato. Ad esempio, facciamo un esempio dell'ultima settimana, degli ultimi cinque giorni. Vado a guardare il titolo Unicredit e il titolo Fuzzimib. Vado a guardare il venerdì, il mercato è salito dell'uno e mezzo. Di quanto è salito Unicredit? Più o meno dell'uno e mezzo. Così lo faccio per giovedì, per mercoledì, per martedì e lunedì. Se nel corso di una settimana il titolo è riuscito a battere il mercato per almeno tre volte, allora viene giudicato che è un titolo più forte rispetto al mercato. Vengono fatte queste ponderazioni, questi confronti tra indice e titolo. In realtà, un'analisi più accurata richiederebbe di fare un titolo nei confronti del settore e magari del settore nei confronti del mercato. Per essere ancora più precisi, per sapere se all'interno del comparto bancario è più forte Unicredit o Intesa. All'interno del comparto energetico è più debole Saipem o Eni. Per poi fare, ne stavamo parlando in pausa a pranzo, delle strategie di spread trading. Però questa è una parte un po' più evoluta. Questa vuole soltanto sintetizzare il concetto di forza relativa. Quali sono i titoli più forti e quali sono i titoli più deboli. Per rispondere invece alla seconda parte relativa al beta, è chiaro che il beta è una misura dell'aggressività anche di quanto in qualche modo il titolo riesce a sovraperformare per forza intrinseca sua un mercato in percentuale. È chiaro che sicuramente è una misura che potrebbe essere inserita tranquillamente all'interno di questa tabella, ma per quello che l'ho spiegato è diverso fondamentalmente come misura. Questo è proprio un concetto di forza tra un titolo e un mercato. Ma infatti una cosa che è giusto dire è questo, no? C'è nel senso che ogni titolo intrinseco ha il suo settore ed è giusto dire che a parte le giornate dove ci sono giornate contrastate quindi magari c'è un unicredit che ti fa più uno e magari un'intesa San Paolo che fa meno 0,5 che succede? Però generalmente se sei in breakout e fai il 4, il Mib come minimo un bancario ti fa l'8 viceversa uguale. Quando al Brexit faceva meno 12 il Mib un bancario unicredit aperto a meno 25 cioè sostanzialmente il bancario doppia sempre il suo benchmark tra virgolette consentimi questo erroneamente questo però cioè il suo indice di riferimento lo doppia perché è proprio insito nella sua natura ed è quasi sempre così. In un'ottica in un'ottica di medio termine sono assolutamente d'accordo nel breve termine ci può stare che ad esempio se il nostro mercato rimane in laterale ok il comparto infatti ti ho detto nei giornate contrastate hai ragione tu però nelle giornate diciamo di breakout classico sia short che long cioè il bancario doppia sempre il Mib e così e te lo dico cioè sempre è un termine forte nel senso che sul termine forte significa che sempre vuol dire che ci metto sicuramente la mano sul fuoco ovvio ovvio però per esempio se il Mib allora facciamo una cosa io da quando faccio trading e non sono pochi anni quando il Mib fa meno due di sicuro il bancario io non ho mai visto bancari che fanno il più uno in quella giornata lì in contattendenza cioè con lo spread che casomai che in quel momento sta salendo a palla cioè non esiste è proprio salvo il centro di settore è un po' come mai detto di Tenaris sono d'accordo Tenaris Saipen Eni tutti quelli che sono ovviamente sul petrolio il petrolio è arrivato a 48 ti tracolla ma ovviamente lì è lo studio del settore e quindi è penalizzato da altri fattori il Mib va su e questi vanno giù assolutamente assolutamente il discorso è che chiaramente questa analisi di forza relativa fatta in maniera chiamiamola professionale non dovrebbe riguardare solo un titolo nei confronti del mercato ma sicuramente un titolo appartiene al settore e il settore fa parte del mercato bisognerebbe fare questo questo duplice passaggio soprattutto andrebbe fatto a livello non tanto italiano quanto a livello europeo perché a livello europeo sappiate sono i vari indici ad esempio Euro Stocks Euro Stocks Banks Energy Health Care Utility e così via analizzare anche a livello europeo dove si spostano questi settori consente di avere uno scenario sì di trend following su dove in qualche modo gli investitori istituzionali stanno entrando a livello settoriale e da quali settori invece se ne stanno uscendo quindi chiaramente in tema di investimento andrebbe fatta più un'analisi settoriale in tema di trading questa indicazione della forza relativa singola titolo contro mercato già comunque dà un'indicazione di che tipo di comportamento sta avendo quell'attività finanziaria o questa attività finanziaria ok questo era solo perché nella pausa pranzo erano nate alcune domande relative a questi aspetti ah prima di continuare per le slide è un'altra domanda che mi hanno fatto in pausa pranzo basta mi hanno dato una mail al mio indirizzo di posta elettronica che è gdefendi chiocciolaclass.it vi manderò una mail con il link dal quale scaricare le slide non ve le posso mandare fisicamente io nella mail perché è un file pesante ho visto in passato che è sopra 10 MB poi arrivano le mail respinte poi mi dicono non ho ricevuto le slide invece con il link andate su Dropbox da Dropbox scaricate senza senza problemi ok allora adesso entriamo un po' più nel dettaglio nella descrizione delle strategie di tipo trend following allora questa mattina vi ho fatto un po' il discorso generale analizziamo i prezzi gli indicatori l'analisi volumetrica per capire chi sta controllando questo mercato e poi vi ho detto guardate che l'idea è ok il mercato fa uno spunto rialzista questo per intenderci ok il mercato strappa il rialzo la prima cosa che dobbiamo verificare è la consistenza di questo rialzo in termini di estensione del rialzo in termini di volume vado a guardare che una volta raggiunto questo massimo di swing i prezzi gli indicatori non vadano in divergenza negativa quindi gli indicatori confermino il trend allora l'idea è ok aspettiamo che ci sia una correzione una pausa di consolidamento quel movimento 2-3 perché quel movimento in qualche modo è soltanto una presa di profitto una pausa di assestamento terminata quella pausa di assestamento il mercato cosa farà consoliderà un attimo e poi ripartirà a rialzo perché il mercato nonostante quella discesa è ancora controllato dai compratori questa entrata le strategie operative che vengono in qualche modo costruite su questo minimo crescente al punto 3 vengono definite entrata in pullback cioè entrata alla fine di una correzione e prima che il mercato riparta riprenda a salire così come questa entrata su un eventuale rimbalzo tecnico 2-3 viene sempre chiamata entrata in pullback è chiaro che lì l'entrata sarà di tipo short cioè sarà di tipo ribassista cioè sfrutterò quel recupero 2-3 per aprire una posizione short prima che il mercato continui la sua discesa parliamo sempre di pullback comunque di movimento di rimbalzo di correzione che si sviluppa all'interno di un trend principale che è consistente che ho già valutato essere forte perché in qualche modo riconfermo se là sopra ho delle divergenze o dei segnali di reversa è chiaro che questa discesa non mi fornisce una nuova opportunità per andare a rialzo ma abbiamo visto prima che allora quella discesa potrebbe essere il preludio ad un'inversione di tendenza la verifica devo farla prima cioè devo andare a vedere come il mercato è arrivato là in cima sul punto 2 se è arrivato forte con i volumi consistenti con barre che confermano la presenza di una pressione rialzista consistente allora quella pausa è soltanto una pausa e poi è molto probabile che il mercato continui a salire parliamo appunto di pullback che sono nient'altro che le correzioni all'interno di un trend rialzista o i rimbalzi all'interno di un trend ribassista parliamo sempre comunque di movimenti di assestamento che si sviluppano all'interno di una tendenza principale vedremo che l'aspetto fondamentale che riguarda il pullback è l'analisi della volatilità perché vedremo che sostanzialmente che il mercato viene da un da un'accelerazione accelerazione al rialzo questa accelerazione provoca un aumento di volatilità abbiamo visto prima come la volatilità sul nostro mercato in questo momento è alta ma perché? perché il mercato ha strappato al rialzo nel corso delle ultime giornate quindi la volatilità è aumentata in modo significativo adesso questo spunto elevato di volatilità deve in qualche modo essere risanato cioè la volatilità ha bisogno di rientrare di rifiatare quella correzione quella pausa di consolidamento serve per far scaricare la volatilità quindi la volatilità momentaneamente si deve tornare su dei valori normali medi e soltanto dopo che la volatilità si sarà riscaricata si creeranno le premesse poi per il successivo movimento impulsivo questo perché? perché la volatilità ha un andamento ciclico il mercato alterna periodi di alta volatilità solitamente nelle fasi di trend rialzista ma soprattutto nelle fasi di trend ribassista quando i prezzi accelerano con decisione a rialzo lì dentro la volatilità è molto elevata quei rimbalzi quelle pause che si verificano servono sì per chiudere le posizioni ma servono anche per far rientrare la volatilità su dei valori un po' più bassi quando la volatilità poi si sarà riscaricata a sufficienza si creano le premesse per il successivo movimento impulsivo in cui la volatilità tornerà inevitabilmente a aumentare vedo delle facce è il pranzo o no? ok quello che voglio spiegare in quest'ora pomeridiana è il concetto di dove si entra all'interno di un trend rialzista vedremo che le entrate possibili sono sostanzialmente due le entrate in breakout cioè quando si verifica l'accelerazione e quella è una prima soluzione ma è una soluzione che molto spesso comporta l'assunzione di rischi che sono medio-alti perché entriamo sul mercato quando questo sta accelerando e quindi entriamo sul mercato quando la volatilità è già alta e quindi questo mediamente mi fa assumere dei rischi che sono medio-alti in realtà l'entrata migliore è la seconda non è tanto l'entrata in breakout che ci può stare l'entrata migliore è l'entrata sul pullback perché entrando sul pullback entro sul mercato quando c'è una volatilità che si sta scaricando una volatilità che si sta scaricando che si sta riducendo mi fa assumere un rischio iniziale sulla mia posizione che sarà sicuramente più basso rispetto all'entrata in breakout quindi da un punto di vista didattico per farvi capire il concetto quali sono le possibilità il mercato viene da una discesa poi inizia il percorso di inversione qua magari abbiamo le nostre divergenze qua abbiamo il nostro minimo crescente che mi dice che questo mercato non è più in trend ribassista la prima entrata potrebbe essere qui quando il mercato supera questa fascia di resistenza in breakout e io effettivamente potrei entrare lì questa è ad esempio un sintetizzando proprio in maniera anche abbastanza brutta l'entrata che viene chiamata un 2-3 low di Joe Ross con l'entrata appunto in breakout al superamento di questa zona di resistenza si può fare bisogna sapere che lì molto spesso ci si assume un rischio medio alto la seconda possibilità di entrata che il mercato mi offre qual è? è che dopo questa prima accelerazione il mercato con solidi o ritracci e una delle tecniche che si possono utilizzare è appunto l'entrata in pullback cioè l'entrata verso una correzione che riporta i prezzi verso una precedente livello di resistenza questa zona di resistenza diventa in un secondo momento una zona di supporto quindi in qualche modo non bisogna mai dimenticarsi delle resistenze che sono state superate dal mercato in precedenza perché? perché queste zone di resistenza svolgono in un secondo momento questo ruolo questo compito di supporto anche qua il mercato accelera poi strappa corregge e Guaracara corregge verso una precedente zona di resistenza che era stata superata perché? perché quelle zone di resistenza e di supporto in particolare se sono delle zone di supporto di resistenza volumetriche cioè dove ci sono stati parecchi scambi indicano delle zone che hanno attirato l'attenzione di tanti operatori tanti operatori avranno comprato tanti operatori avranno venduto se tanti operatori hanno venduto e comprato qua lo giudicano questo livello di prezzo un livello di prezzo particolarmente significativo e il mercato in qualche modo questo livello se lo ricorda quindi sa che qua se prima qua c'era stata una battaglia importante la stessa battaglia sarà qua e qua se il mercato sta correggendo è probabile che trovi in qualche modo una zona di supporto che in qualche modo poi favorisca la ripresa del trend rialzista quindi in qualche modo andate nei vostri grafici a individuare quelle che sono delle zone di resistenza di supporto ripeto in particolare di tipo volumetrico perché? perché lì sono combattute delle battaglie importanti se si sono state combattute in passato è probabile che anche in futuro quegli stessi livelli vengano utilizzati dagli investitori istituzionali per costruire una nuova operatività in soldo in soldo no 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 diciamo cioè dovrei entrare dopo che si è verificata una resistenza dopo che una super allora il fatto che il mercato riesca a superare una zona di resistenza mettiamola così in modo che ok allora qua il mercato inizia a salire il mercato inizia a salire e qua smette di salire si forma un massimo un massimo e il mercato inizia a scendere e lì io non so ancora che è una resistenza è un'ipotesi allora si riverifica perfetto magari qua sotto l'unico elemento che avevamo era la presenza di divergenze ma non ci interessa in questo momento io so che qua il mercato ha smesso di salire e inizia a scendere le possibilità sono due o qua il mercato smette di scendere smette di salire e inizia a scendere perché è diminuita la forza dei compratori quindi i compratori che stavano acquistando nel corso di questo rimbalzo non se la sentono più di andare avanti a acquistare quindi tirano un po' il pedale dal freno degli acquisti e quindi è la pressione rialzista che si riduce o in alternativa qua il mercato sta salendo ci sono ancora tanti compratori che vogliono spingere sul mercato ma arrivano tanti venditori che vendono e impediscono al mercato di continuare nella sua salita e quindi inizia il mercato a scendere ok io so che nel primo caso qui il mercato ha smesso di salire perché è venuta meno la forza dei compratori quindi ci saranno pochi volumi non ha smesso di salire perché sono arrivati dei venditori sono i compratori che hanno smesso di comprare pochi volumi se io invece vedo tanti volumi significa che lì c'è stata tanta battaglia c'è stata c'erano tanti compratori che premevano per far salire il mercato ma sono arrivati i venditori che hanno bloccato la salita da parte dei prezzi quindi so che lì si è creata una zona di resistenza volumetrica ok allora il mercato poi scende devo valutare la consistenza di questa discesa perché se il mercato è in trend ribassista io dovrei avere volumi alti quando il mercato scende volumi deboli quando il mercato sale e poi volumi nuovamente forti quando il mercato scende vi ricordate il grafico che faceva vedere come si devono sviluppare i volumi all'interno di un trend se io inizio a vedere un rimbalzo con volumi elevati e una discesa con volumi scarsi deboli significa che non è più un comportamento dei volumi che è compatibile con la presenza di un trend ribassista anzi il mercato si sta già comportando come se fosse già in un trend rialzista con volumi elevati quando il mercato sale e volumi deboli quando il mercato scende e allora l'informazione che mi arriva dei volumi è un'informazione che mi conferma che sta cambiando qualcosa nella struttura del mercato che non è più in un trend ribassista da un punto di vista grafico almeno fino a quando non si forma questo minimo ma da un punto di vista volumetrico ho già un'informazione in più e ho un'informazione tratta dal fatto che qua ho pochi o tanti volumi se ho pochi volumi allora io posso anche ipotizzare che quando il mercato prova a salire e arriva qua quella resistenza verrà in qualche modo oltrepassata perché ho visto prima che non sono arrivati tanti venditori su quel livello di resistenza e quindi potrei entrare in breakout ma se qua vedo tanti volumi so che quando il mercato arriverà qua lì si creerà probabilmente una nuova battaglia ci sarà la necessità che arrivi veramente una corrente importante di acquisti che in qualche modo riesca a fare oltrepassare quella resistenza che in precedenza aveva bloccato la salita del mercato possiamo vedere un esempio con un'azione concreta sì magari dopo ho alcuni esempi che combinano un po' adesso stiamo più nell'esempio ok da un punto di vista grafico per sapere l'inizio del trend da un punto di vista grafico per sapere l'inizio del trend rialzista o ribalzista che sia vale ancora la configurazione a testa e spalla nella sua esperienza storicamente parlo di trend di qualche settimana o di qualche mese oppure no? per me fa parte di un'analisi tecnica defunta nel senso che penso che quell'analisi tecnica dei testa e spalle e di altre figure che risalgono a quel periodo lì non ci sono più nel senso che qualche volta ci sono ancora e per carità che si materializzano ma oramai i mercati hanno cambiato profondamente il loro comportamento chi di voi si ricorderà i mercati degli anni 90 ci si ricorderà che per eseguire un ordine in borsa bisognava alzare il telefono chiamare la banca e si avevano i dati col televideo i 15 minuti in ritardo si aveva eseguito il giorno dopo erano mercati completamente erano inefficienti adesso c'è un'efficienza sui mercati finanziari che fa sì che i mercati si muovano in modo completamente diverso e vanno analizzati anche in modo diverso questo non vuol dire che non c'è più il testa e spalle ci può anche essere ma è chiaro che insomma lascia un po' un'altra domanda nella prima fase dell'imbalzo generalmente sono i ribassisti che si coprono dopo di che arriva il denaro vero c'è qualche indicatore che può dare la sensazione di quanto il denaro sia dato da copertura di posizioni ribassiste oppure no oppure di vero investimento sul nostro mercato no sul mercato americano sì ci sono degli indicatori che vanno a vedere quante posizioni short sono aperte sui vari titoli e uno ha quindi l'idea se su un certo titolo gli investitori istituzionali hanno aperto grosse posizioni a ribasso e allora andare a vedere se effettivamente quante posizioni short c'erano ieri e quante posizioni short ci sono oggi si capisce se in qualche modo c'è stata una grossa ricopertura di posizioni short o invece è arrivato qualche acquisto diciamo di posizione sul nostro mercato purtroppo si può fare un discorso a livello di opzioni quindi ecco però lascia un po' il tempo che trova secondo me posto? ok allora andando avanti in questa descrizione avete capito che si gioca tutto attorno queste zone di resistenza e di supporto le resistenze una volta superate diventano supporto il contrario in un trend ribassista quando i prezzi rompono un livello di supporto questo diventa un'eventuale resistenza nel caso di tentativi di rimbalzi ok? la cosa importante è si monitorare lo sviluppo grafico dell'attività finanziaria ma la cosa ulteriormente importante è andare a vedere che tipo di volumi si verificano quando il mercato trova dei minimi e inevitabilmente poi dei massimi perché? perché fa tutta la differenza del mondo nel senso che se io vedo volumi scarsi allora quello probabilmente è soltanto una ricopertura di posizioni short se vedo dei volumi elevati significa che ci saranno stati una parte magari di chiusura di posizioni short ma è lecito anche supporre che ci sia anche stato magari anche l'apertura di nuove posizioni long quindi in qualche modo l'analisi volumetrica mi informa del tipo di comportamento che hanno avuto gli operatori nelle varie situazioni di mercato allora adesso vediamo il tipo di vantaggi che si hanno quando si decide di operare a favore di trend allora il primo vantaggio fondamentalmente è questo il primo vantaggio nasce dall'analisi della volatilità è un concetto che vi ho già detto in precedenza in cui i mercati alternano questo movimento ciclico ci sono periodi di bassa volatilità che precedono periodi di alta volatilità i periodi di alta volatilità sono le fasi direzionali cioè quando il mercato si trova o in un trend di bassista o in un trend di alzista lì dentro la volatilità aumenta quando invece il mercato si trova in fasi laterali chiamiamoli di consolidamento chiamiamoli triangoli chiamiamoli rettangoli chiamiamoli flag chiamateli in mille moi diversi lì dentro si verifica uno scarico di volatilità questo scarico di volatilità è il preludio a movimenti impulsivi nella mia tabella se vi ricordate c'erano quelle quattro colonne colorate di verde quelle quattro colonne colorate di verde indicano quando un titolo sta registrando un bassa volatilità cioè ha una volatilità recente che è molto più bassa rispetto alla volatilità storica facciamo l'esempio il nostro titolo Unicredit ha una volatilità media storica del 3% dico un numero a caso senza guardarlo tanto per farvi un esempio io so che mediamente questo è il suo valore medio mediamente quella è l'escursione media vado a calcolare la volatilità recente di Unicredit quindi nel corso dell'ultima una due settimane e mi posso trovare di fronte a due situazioni diverse posso trovarmi in una situazione in cui la volatilità recente di Unicredit è più bassa del 3% in particolare io sono interessato a quando la volatilità è meno della metà della volatilità storica quindi quando è meno dell'1,5% o in alternativa posso trovarmi il caso che recentemente Unicredit ha una volatilità del 4-5% giusto? siete d'accordo? poi c'è anche il caso certo che potrei avere anche una volatilità che è attorno alla media storica ma facciamo i casi in cui è più bassa o più alta rispetto alla media storica quando è molto più bassa rispetto alla media storica significa che su quell'attività finanziaria c'è una compressione di volatilità cioè la volatilità si sta comprimendo e da un momento all'altro mi devo aspettare che quanto meno la volatilità torni verso il suo valore medio cioè dall'1,5% di esempi che abbiamo fatto torni almeno al 3 poi magari salirà e diventerà il 4 il 5 perché in qualche modo vuol dire che si sarà instaurata una tendenza direzionale di una certa importanza cos'è che mi dice questo schema? mi dice che prima che il mercato inizi un trend la volatilità che devo avere è bassa quindi prima che parta qualsiasi trend devo avere una situazione in cui la volatilità si deve scaricare le fasi di accumulazione di distribuzione quelle che si trovano alla fine di un trend ribassista o alla fine di un trend rialzista sono le fasi nella quale la volatilità si abbassa si abbassa progressivamente quello scarico di volatilità getta poi le premesse per il movimento impulsivo vero e proprio parte il movimento impulsivo e la volatilità aumenta aumenta inevitabilmente deve andare verso deve almeno tornare verso il 3 poi andrà avanti e arriveremo a un periodo in cui la volatilità arriva magari al 6% al doppio della volatilità storica in quel momento significa che quando abbiamo un periodo di eccessiva volatilità significa che oramai il mercato quello che doveva fare in termini di direzionalità l'ha fatto nel senso che oramai il mercato viene da un periodo di alta volatilità che si sta protraendo già da diverso tempo e quindi una volta arrivati sulla in cima è inutile che vado ad aprire nuove posizioni su quell'attività finanziaria perché il movimento c'è già stato dovrò aspettare che la volatilità rientri e si ricrei una seconda opportunità eventualmente per aprire posizioni in direzione del trend i pullback servono a questo servono a individuare quando un mercato scarica la volatilità e ricrea le premesse per ripartire nella direzione del trend principale ho mangiato troppo pesante mi sa allora questa slide vi fa vedere il concetto di dove il mercato termina un movimento al ribasso dove inizia un processo di accumulazione qua è sintetizzato con delle linee proprio per farvi vedere soltanto il concetto teorico che è quello che dovrebbe passare alla fine di questa giornata cioè una fase nella quale il mercato che viene da un periodo di alta volatilità il mercato sta scendendo viene da un trend di bassista la nostra volatilità sarà altissima per forza di cose perché è un trend e quindi abbiamo visto che la volatilità nei fasi di trend aumenta qui avremo il nostro picco di volatilità cioè la volatilità è sul massimo che abbiamo visto nella slide precedente questo movimento laterale serve per far scaricare la volatilità qua dentro c'è un periodo in cui i prezzi iniziano a oscillare lateralmente questa oscillazione è soltanto scarico di volatilità questo scarico di volatilità serve agli istituzionali per iniziare il loro processo di accumulazione capiscono che il trend di bassista è terminato iniziano in modo consistente o meno consistente questo dipende un po' dai casi ad accumulare posizioni accumulano posizioni c'è quindi un rafforzamento costante della pressione rialzista all'interno di quella fase laterale il mercato a un certo punto cosa fa? inizia a salire e va in breakout rompe la prima resistenza che si era creata all'interno della fase di accumulazione lì è il segnale che il processo di accumulazione è terminato il periodo di bassa volatilità è terminato superando questa zona il mercato entra in un periodo di alta volatilità si instaura un trend un trend rialzista quindi abbiamo un'impennata della volatilità la volatilità strappa arriva su quel picco al punto 1 arrivato su quel picco il primo movimento la prima ondata se qualcuno conosce le onde di Elliot è fatta il movimento strappa rialzo e raggiunge il primo massimo significativo arrivato sull'encima ha bisogno di rifiatare deve rifiatare momentaneamente inizia un pullback una correzione una pausa di consolidamento che serve per far scaricare la volatilità questo pullback questo movimento potrebbe riportare i prezzi verso quella zona di resistenza che si era creata all'interno della fase di accumulazione e che ora fa da supporto quella zona di resistenza che ora fa da supporto arresta diciamo il movimento di consolidamento di correzione e poi dà il via a un nuovo movimento impulsivo in cui la volatilità tornerà ad aumentare allora vi faccio vedere le cinque cose che dovreste osservare per valutare la presenza di pullback all'interno di un trend rialzista ve lo dico solo in un trend rialzista poi in trend rialzista è la cosa simmetrica ok allora la prima cosa che dovete guardare è come iniziata la correzione cioè come faccio a capire se il mercato dopo che ha strappato a rialzo ha iniziato una correzione che è solo una correzione prima di una nuova salita o invece l'inizio di un'inversione a ribasso ve l'ho già detto questa mattina devo andare a vedere cosa è successo su quel primo picco che si è creato cioè devo andare a vedere se quando il mercato ha accelerato qua sopra là sopra ci sono divergenze ad esempio con i miei indicatori tecnici ci sono delle barre di inversione dei segnali di reversal se non ci sono divergenze non ci sono segnali di reversal significa che il mercato ha accelerato in modo sano ha strappato adesso qualcuno che è stato bravo fortunato ad entrare qua vede che il mercato è salito del 5-7-10% non lo so strappa rialzo comunque prende in tutto in parte profitto le sue prese di profitto fanno sì che i prezzi in qualche modo corregano scendano ok però tutto è ok questa è una correzione o qualcosa di più la prima cosa che devo andare a valutare è lassù in cima su quel piccolo punto 1 cosa è successo devo andare a vedere le cose che avevo detto divergenze barre di reversa e poi ci sarebbe la parte volumetrica che non vi posso spiegare allora la seconda cosa che devo andare a guardare è appunto la parte grafica quel piccolo punto 1 su quel piccolo punto 1 si forma un massimo quel massimo viene chiamato massimo di swing cioè è un punto di esaurimento momentanea della prima ondata rialza che il mercato ha fatto è un massimo di swing è un massimo di swing che però si può formare in tanti modi diversi perché? perché ci sono dei massimi di swing che sono soltanto appunto dei massimi di momentaneo esaurimento se mi accorgo che però su quel massimo ci sono delle figure di inversione particolarmente significative chi di voi conosce ad esempio una shooting una evening star diciamo delle pattern di candele giapponesi sa che quel tipo di configurazione grafica mi avverte che una volta raggiunto quel massimo la pressione ribassista è aumentata in maniera significativa è aumentata troppo non voglio che lì sopra ci sia un segnale così brutto perché se voglio che sia soltanto un massimo di momentaneo esaurimento e invece arrivato lì vedo che la pressione ribassista è aumentata tanto vuol dire che c'è qualcosa che non va quindi la presenza di sopra di figure di inversione mi indica che devo stare attento a quello che succede nella successiva correzione poi la cosa che devo fare è andare a analizzare la parte di volume profile cioè di distribuzione dei volumi devo andare a guardare come si sono comportati i volumi nel corso sia del precedente impulso al rialzo sia nella correzione che si sta materializzando cioè devo andare a guardare ok qua il mercato ha strappato in su fino al punto 1 ma i grossi acquisti gli istituzionali li hanno fatti qua li hanno fatti qua li hanno fatti qua in breakout o sono entrati tardi e sono entrati di sopra eh perché ci sono tanti volumi ma sapere a che prezzi gli istituzionali li hanno comprato può essere importante per sapere dove loro in qualche modo hanno effettuato il loro processo di accumulazione e quell'informazione qua ve la può dare soltanto il volume profile volume profile market profile non ve la può dare nessun'altra nessun'altra l'ultima cosa che dovete fare è ok adesso ho valutato che il primo spunto rialzista è forte sul punto 1 non ci sono divergenze non ci sono segnali di inversione la correzione è una correzione con pochi volumi l'ultima cosa che devo fare è ok vado a cercare un punto di esaurimento di questa correzione questo mio punto 3 perché quel punto 3 sarà il mio punto ideale per entrare prima che il mercato poi riparta a rialzo perché è ideale perché viene da una situazione nella quale la volatilità si sta scaricando e entrando qua entro sul mercato prima che il mercato riparta e torni un periodo di alta volatilità quindi ci si cerca sempre di entrare in periodi di bassa volatilità per cercare di anticipare il periodo di alta volatilità qui trovate il reciproco nel trend di tipo ribassista vi faccio vedere adesso alcuni esempi operativi di come si utilizzano a livello grafico e con alcuni con alcuni indicatori tutti i concetti teorici che vi ho spiegato tra questa mattina e nel primo pomeriggio qui ne trovate 6 non faccio assolutamente in tempo a spiegarle tutti e 6 visto che siamo in ritardo abissale cercherò di darvi dei flash di tutte e 6 queste strategie poi nelle slide più o meno dovreste trovare tutti allora una possibilità che c'è per costruire strategie di tipo trend following è quella di utilizzare delle barre che vengono chiamate delle barre di inside narrow range è un tema che abbiamo affrontato anche in questo caso nel corso di marzo quindi lì chi ha la pazienza di andare su youtube o riguardarsi le slide lì l'ho spiegato sicuramente l'ho spiegato meglio di quanto riesca a fare oggi pomeriggio dove devo assolutamente sintetizzare il tutto in breve cosa va a sfruttare questa strategia allora il nostro mercato abbiamo detto viene da un impulso di tipo rialzista il mercato strappa il rialzo quindi in qualche modo esce da una fase di accumulazione strappa instaura un trend faccio la mia valutazione i miei indicatori confermano la bontà di quel trend devo andare a cercare delle opportunità appunto per entrare in direzione di questo trend una delle possibilità è sfruttare questo tipo di barre questo tipo di barre vengono chiamate di inside narrow range sono di inside perché il corpo cioè il range di questa seconda barra nera è completamente contenuto nel range della barra precedente cioè devo trovare una giornata il cui massimo è inferiore al massimo precedente e il cui minimo è superiore al minimo del giorno precedente cioè significa che ieri i prezzi hanno oscillato tra 19,80 e 19,50 oggi hanno oscillato tra 19,70 e 19,60 per proprio farvi capire il concetto estremo significa che il mercato veniva da un movimento impulsivo c'è una giornata in cui né rialzisti né ribassisti sono riusciti né a spingere in su né a spingere in giù è una giornata di sostanziale equilibrio questo equilibrio è un equilibrio però precario il mercato io devo ricordarmi che è in trend rialzista nell'ipotesi poi vediamo l'ipotesi di bassista il mercato deve venire da un trend al rialzo cioè deve avere avuto una direzionalità positiva si prende una giornata di pausa appunto la barra di inside devo essere pronto a sapere che quella è soltanto una piccola pausa prima che il mercato strappi subito via questo accade soprattutto nei mercati molto forti molto direzionali si costruisce una strategia di questo genere vado a costruire una strategia long quindi di acquisto al superamento del massimo della barra di inside quindi al superamento di questo massimo con stop loss iniziale sotto il minimo di quella barra il vantaggio di questa strategia è duplice il mio rischio iniziale è contenuto l'ampiezza di questa barra è per forza di cose contenuta è piccola è contenuta nella barra precedente significa che i prezzi inevitabilmente hanno un range di oscillazione contenuto e soprattutto se è vero che questa è soltanto una breve pausa prima che il mercato ristrappi ancora al rialzo cosa faccio costruisco una posizione con un rischio basso in bassa volatilità ma se il mercato domani riprende e riprende a salire con alta volatilità io mi devo aspettare che il rendimento potenziale di quella operazione sia inevitabilmente più ampio rispetto al mio rischio iniziale che mi sono preso quindi in qualche modo costruisco un'operazione in cui rischio poco ma potenzialmente ho un guadagno che sarà sicuramente più elevato rispetto al rischio che mi sono assunto l'opposto se il mercato viene da un trend ribassista il mercato viene da un trend ribassista c'è una barra di inside che è una barra appunto con il corpo contenuto nella barra precedente se il trend ribassista è forte ho valutato che non ci sono segnali di esaurimento ecco che in questo caso andrò short sotto il minimo della barra di inside con stop loss o per il massimo le considerazioni sono opposto questo tipo di strategia funziona soprattutto se questa barra ha anche un range particolarmente piccolo si parla di narrow range si va cioè a guardare quanto è piccola questa barra e la si confronta con le n barre precedenti 5-7 a seconda dei calcoli che si vogliono fare se questa barra oltre a essere di inside è anche la più piccola delle 5-7 precedenti allora ho una situazione in cui effettivamente nel corso di quella giornata la volatilità si è compressa si è compressa in modo significativo e questo aumenta le probabilità che il mercato poi abbia la forza per accelerare con forza o scendere con decisione allora no vi faccio vedere questo allora vi faccio vedere una tecnica che viene chiamata 1-2-3 pullback che è appunto una tecnica che si può utilizzare quando il mercato subisce delle correzioni dei pullback in questo caso in un trend rialzista poi c'è la versione opposta che è quella in un trend ribassista allora le correzioni che ci possono essere sul mercato possono essere di vario tipo cioè il mercato strappa al rialzo sostanzialmente ci possono essere due situazioni strappa al rialzo e poi il mercato si muove in orizzontale quindi non ha neanche la forza di scendere o strappa al rialzo e poi subisce una correzione nelle ipotesi che abbiamo fatto nelle slide precedenti abbiamo sempre ipotizzato che strappi al rialzo poi corregga trovi supporto verso la precedente resistenza e poi da lì riparta questo è come sfruttare da un punto di vista operativo questo genere di correzioni cioè correzioni che si sviluppano in termini negativi si sviluppano a forma di flag cioè il mercato strappa al rialzo quindi con volumi elevati poi subisce una correzione all'interno della quale devo andare a guardare che i volumi diminuiscono perché devo avere l'idea che quella è soltanto una correzione da presa di profitto questa correzione una volta terminata poi darà il via a un movimento impulsivo in cui i volumi sono destinati inevitabilmente a riaumentare qui la volatilità è alta qua la volatilità si scarica la volatilità riprende quando i prezzi hanno questa forma di correzione cioè a forma di flag si riescono a individuare praticamente due massimi e due minimi decrescenti cioè devo in qualche modo inquadrare la correzione all'interno di un rettangolo che è negativamente inclinato questa è una delle possibilità che ci sono questa viene chiamata bull flag perché è una flag rialzista cioè è una situazione nella quale i prezzi strappano disegnano questa bandiera che è negativamente inclinata ma poi il mercato risale perché è il trend principale positivo questa invece ha una via più o meno sì assolutamente sì questo è un trend ribassista con tanti volumi i mercati provano un rimbalzo devo andare a guardare che i volumi diminuiscano questa è soltanto ricopertura di posizione short poi il mercato riprende a scendere con decisione con volumi elevati proprio perché il trend è ancora ribassista l'analisi tecnica degli anni 90 fino agli anni 2000 chiamava queste flag nel senso che si disegnavano le flag le trend line si tracciavano tutti questi livelli adesso l'analisi tecnica è un po' migliorata qui c'è molto grafico c'è molto la parte estetica perché queste trend line se ci mettiamo qua in 100 a disegnarle abbiamo 100 trend line assolutamente diverse una la disegna un po' più arrotondata l'altra unisce con precisioni i minimi ma non i massimi è una parte grafica che lascia troppa discrezionalità la parte discrezionale secondo me bisogna proprio metterla nel cestino ed è un po' secondo me il limite che ha la parte di analisi economica politica che avete affrontato questa mattina perché ognuno poi la vede al suo modo fondamentalmente uno vince Macron l'altro dice vince la Le Pen ognuno ha la sua secondo me invece da un punto di vista di analisi di trading bisogna essere il più oggettivo possibili le trend line secondo me non valgono più niente già da molto tempo così come l'analisi grafica il test e spalle di cui parlavamo prima è frutto tutto di un'analisi tecnica che è morta oramai bisogna quantificare il tutto quella tabella che vi ho fatto vedere prima è una cosa oggettiva in base ai parametri che ho fissato mi dice quali sono i titoli in trend la forza relativa è più alta o più bassa quali sono i titoli in compressione devo avere dei parametri oggettivi statistici è chiaro che non sono infallibili ci mancherebbe ma sono dei parametri che mi dicono effettivamente qual è la situazione presente sul mercato poi domani vincerà Macron o la Le Pen e cambierà il cinema fondamentalmente devo avere una fotografia del mercato alla data di oggi quindi quella la fotografia di oggi che mi consentirà di costruire le migliori strategie per lunedì ok fatta c'è un modo di mettere in relazione aspetti perché non sento per capire qual è il trend c'è un modo di mettere in relazione la variazione dei prezzi rispetto al volume faccio un esempio concreto venerdì intesa ha fatto più 2,9 in chiusura sono stati fatti dei volumi nell'asta di chiusura pari all'11 per cento quasi 12 di tutti i volumi giornalieri ma il titolo rispetto al massimo è tornato indietro solo dello 0,7 questo può essere interpretabile come il fatto che è stata una normale fase di riaccuno dove poi gli istituzionali sono entrati con dei volumi importanti rispetto alla totale della giornata però con una piccola flessione del prezzo o è imprudente fare questa affezione allora questa analisi è l'analisi che viene fatta a livello di market profile volume profile che non abbiamo purtroppo il tempo di far vedere però se si va a guardare quello che è successo su intesa ma è un discorso che si può estendere ai bancari nel corso delle due giornate cos'è successo è successo che giovedì il mercato è iniziato a salire poi nel resto della giornata ha fatto un laterale moderatamente ancora improntato al rialzo lì dentro gli istituzionali avevano iniziato a accumulare giovedì sto parlando ok quindi i acquisti istituzionali sono stati fatti già nella giornata di giovedì sono entrati in acquisto in maniera significativa venerdì il mercato cosa fa apre corregge guarda caso si appoggia su tutte quelle zone che appunto hanno fatto da supporto e hanno arrestato quella correzione in 3D della mattina del venerdì parlando di FIB 760 per intenderci per i livelli ha fatto 760 di minimo si è appoggiato su questa zona di supporto volumetrico e da lì è iniziato a salire gli istituzionali da lì hanno iniziato a rientrare sul mercato hanno sostenuto questo rialzo e l'hanno portato sui livelli alti 21,5 del mercato in chiusura poi è chiaro che in asta di chiusura o diciamo tra le 4,5 alle 5,5 ci può essere qualche istituzionale che è entrato giovedì su intesa e dice ma mi sono già trovato un guadagno del 4,5,6% sai che c'è ho comprato un certo numero di intesa a San Paolo un 30% porto a casa il guadagno dico un numero a casa un 30-40% esco e quelle sue vendite in asta di chiusura o magari nell'ultima o quarto d'ora nell'ultima mezzola possono innescare una correzione bisogna però quantificare che tipo di volumi si sono realizzati là sopra considerando i volumi totali della giornata lei dice l'11% diciamo inizia già a essere una cosa abbastanza significativa un 11% vuol dire che su quel 2,86 ok abbiamo trovato già una zona dove qualche istituzionale ha iniziato a liquidare delle posizioni magari in maniera prudente però in qualche modo abbiamo già un effetto di liquidazione momentanea però forti volumi di chiusura con un alliuo di pressione rispetto al massimo vuol dire che in tutti i più anni nel caso rientra certo certo assolutamente sì quello probabilmente potrebbe essere stato anche solo un unico istituzionale che ha liquidato una parte di sua posizione ma il grosso diciamo della massa degli istituzionali era ancora in acquisto quindi tutto sommato quel ritracciamento è stato soltanto una percentuale minima durante le fasi per esempio in un trend di alzista durante la fase di accumulazione e dice si deve abbassare la volatilità ed è giusta però vuol dire che la fase di accumulazione infatti è coerente con quanto deve essere ampia e lunga perché in realtà un istituzionale la alza la volatilità soprattutto se parliamo di un titolo dell'istituto italiano dove se devo comprare fortemente un titolo e se lo faccio velocemente la volatilità schizzerebbe uno dei modi per capire quando avete una fase laterale se è una fase laterale che precede un'inversione di tendenza cioè per intenderci andiamo qua uno dei modi per capire se il mercato viene da un trend ribassista inizia un movimento laterale questo movimento laterale uno dice ma è un'accumulazione e quindi inverte al rialzo o è soltanto una pausa prima che il mercato acceleri ancora al ribasso perché poi questa è la domanda che ci si pone sempre il vero concetto tornando alla slide di prima si può rimetterla quale? quella della flag questa? sì no quella della flag ah ok questa il grosso dei volumi in una fase rialzista ci saranno sugli istituzionali in realtà quando subito nei primi due giorni di discesa dove loro in realtà stanno raccorriendo tutto poi accumulo basso per vari giorni e loro fanno ulteriori compere proprio perché la volatilità è compressa il breakout dal mio punto di vista è una cosa che a volte trovo secondo me è sbagliata in realtà non è detto che un breakout sia fatto con grandi volumi perché ne ne bastano pochissimi perché in realtà fanno vedere che appunto siccome la fase ha appiattito la volatilità non è automatico che siano volumi superiori al primo picco ecco in questo senso perché la volatilità è bassa le due barre blu che ci sono lì nel breakout non è detto che siano ancora più alte o con grandissima forza no ma questo era per farvi dire che ci devono essere volumi elevati quando il mercato siccome i volumi si sono talmente abbassati potrebbe anche essere che la prima stanghetta qua è alta e poi le stanghette blu sono in decrescenti la cosa importante è che siano poi ulteriormente decrescenti durante la fase di correzione per avere il segnale che quella è soltanto una correzione e nulla di più sono molto decrescenti più però è lungo la cura ecco attenzione ci sono vari modi per capire se una fase laterale che sia una flag che sia una cosa laterale è soltanto una pausa laterale prima di un'inversione o una pausa laterale prima di un'ulteriore discesa per quello che era tornato in questa slide cioè se il mercato si trova qua dentro gli scenari ipotetici cosa sono? se il mercato viene da un trend ribassista lateralizza per un po' è è accumulazione e quindi prima di un'inversione o è soltanto una pausa prima di una nuova discesa ci sono vari aspetti il principale secondo me è l'analisi volumetrica pochi volumi indicano che è difficile che ci sia accumulazione più il tempo si allunga più è difficile che quella sia una pausa però nel senso che se è una pausa una pausa deve essere breve 3, 5, 7 giornate se si allunga il tempo significa che anche i ribassisti in questo esempio non hanno più così tanta voglia così tanta forza non riescono più a spingere subito con decisione il mercato quindi anche loro sono in stand by poi c'è l'aspetto fondamentale è come il mercato è entrato in quella pausa di consolidamento perché se non ci sono divergenze allora quello aumenta le probabilità che quella sia una pausa se ci sono le divergenze significa che già è un altro ulteriore campanello di allarme che mi dice che su quel minimo c'è qualche segnale di esaurimento del trend ribassista in atto poi è chiaro che il processo di accumulazione è successivo e quindi in qualche modo la divergenza mi allerta che sono i ribassisti ad aver avuto meno forza l'accumulazione prevede che invece ci sia un arrivo di compratori veri sul mercato che iniziano il processo appunto di accumulazione e creano le premesse qui ci possono essere tanti o pochi volumi nel senso che quando c'è il breakout l'accelerazione nell'1,2,3 o altre figure simili ci può essere poco volume o tanto volume secondo me se c'è tanto volume significa che comunque c'è una pressione di alzista che si sta materializzando questo non vuol dire che se c'è poco volume il mercato non abbia le possibilità di salire però se c'è tanto volume vuol dire che in qualche modo c'è una pressione di compratori che sta entrando sul mercato e ha intenzione in qualche modo perché ipotizza che il mercato continui nella sua salita più volume ci sono secondo me durante questa fase di accelerazione più aumentano le possibilità che da lì si sviluppi un movimento importante questo non vieta che ci siano anche pochi volumi e il mercato salga assolutamente ma questo non è fuori discussione mi fanno brutti segni da ecco no volevo far vedere da dire ancora no segnale ribassista eh segnale molto ribassista allora allora per farvi vedere qualche esempio grafico in modo che capiate anche l'importanza dei vari indicatori questo è un indicatore che misura la pressione rialzista ribassista presente su sulle varie attività finanziarie io tendo sempre a fare questa semplificazione linea rossa i venditori linea blu i compratori ok quindi pressione rialzista linea blu pressione ribassista la linea rossa e così lo vedete anche colorate nelle mie barre chi magari guarda i miei grafici vede sempre che hanno sempre tre colori blu rossa e nera nera consolidamento laterale pausa rialzista hanno vinto i compratori ribassista hanno vinto i venditori per sintetizzare al massimo allora ci sono degli indicatori che funzionano in vari modi ci sono degli indicatori che sono quelle due linee che vedete là sopra che vanno alla caccia delle divergenze ne abbiamo parlato di divergenze positive e negative ci sono indicatori come queste che in qualche modo mi fotografano quando c'è un cambio di forze in campo vedete che quando la linea blu incrocia dal basso verso l'alto la linea rossa significa c'è stato un chiaro rafforzamento della pressione rialzista al contrario qui vedete un rafforzamento della pressione ribassista dei segnali proprio di incrocio quando c'è una o due forze che prende il sopravvento sull'altra vedete che qua però ci sono delle fasi in cui le due linee salgono scendono e ci sono in qualche modo dei segnali chiamoli falsi ok perché perché il mercato è in congestione laterale fondamentalmente se voi fotografate questa situazione avete una situazione nella quale il mercato oscilla lateralmente è il problema di molti indicatori di tipo trend following cioè sono indicatori di tipo ledging ossia ritardatari sono molto belli molto utili a fotografare i movimenti impulsivi quando partono ma se il mercato per un po' di tempo per troppo tempo rimane in fase laterale sono indicatori che possono dare falsi segnali cosa vuol dire significa che qui vi fa vendere acquistare vedete qua dentro ok c'è l'incrocio delle due linee per due o tre volte lì dentro comprate vendete con i prezzi che non si muovono e rischiate soltanto di perdere o di pagare commissioni però il vantaggio di questi indicatori è che quando c'è poi il movimento direzionale quel movimento direzionale lo fotografa e lo fotografa molto bene quindi il lavoro che viene fatto a livello di analisi tecnica analisi quantitativa cos'è prendere indicatori come il vortex poi nelle slide trovate anche il super trend ne trovate altri sono indicatori che fotografano bene le tendenze e combinarli invece con l'altra tipologia di oscillatori barra indicatori che sono invece oscillatori più veloci più rapidi più reattivi quelli reattivi rapidi teoricamente andrebbero utilizzati all'interno delle fasi di oscillazione laterale quando però gli indicatori direzionali vi dicono che è partito un trend dovete in qualche modo utilizzare quelli e lasciare da parte gli indicatori leading quindi il segreto è mixare in qualche modo i segnali che arrivano da queste due grosse tipologie di oscillatori barra indicatori quindi molto spesso ad esempio si combina i segnali del vortex con uno stocastico piuttosto che il super trend con un RSI piuttosto che altri indicatori di questo simile bisogna prenderne uno lento e uno reattivo e mixarli insieme per avere il timing ottimale di entrata e di uscita dal mercato è ancora guarda il telefonino quindi qualche minuto io lo rubo ancora no allora avete capito fondamentalmente dalle slide di oggi che la cosa fondamentale è se avete degli indicatori che vi dicono che un mercato è in trend un mercato un titolo un indice una valuta una materia prima non importa la cosa che dovete fare è ok è un trend rialzista dovete monitorare la consistenza di questo trend rialzista quindi è la forza con il quale il mercato è salito su quel massimo al punto 1 in termini di prezzi in termini di indicatori e in termini di volumi devo vedere tanti volumi qua quando il mercato sale quando arriva su quel piccolo non devono esserci divergenze non devono segnali di inversione allora se così è e soprattutto se nella correzione 1 o 2 ci sono pochi volumi allora questa è in qualche modo un'opportunità per costruire una strategia al rialzo prima che il mercato riparta a volte ci riuscirò quindi l'entrata ottimale sicuramente è qua prima che il mercato superi la resistenza al punto 1 a volte non ci riuscirò a quel punto dovrò in qualche modo essere costretto un po' a rincorrere il mercato nel senso andrò a cercare magari un'entrata in breakout sicuramente più rischiosa ma valuterò che comunque sto comunque lavorando a favore di trend quindi se ho un trend rialzista forte senza divergenze con volumi elevati con un titolo che sta sovraperformando il mercato posso anche rischiarmi a entrare in breakout quindi magari un'entrata magari più rischiosa rispetto all'entrata in pullback che avviene qua sotto ma sicuramente un'entrata che ha molte probabilità di successo proprio perché ci sono diversi elementi grafici volumetrici quantitativi che tutti indicano che effettivamente è un titolo che ha ancora la forza per salire trovate nelle slide degli esempi grafici di dove in qualche modo si possono costruire delle strategie operative ma che in qualche modo non fanno che specificare magari forse meglio di quanto ho fatto io a voce dove si possono costruire delle strategie operative sul minimo qua al punto 3 in breakout durante il pullback quindi tutte le varie strategie che si possono utilizzare per costruire strategie operative volte comunque a lavorare in direzione di un trend solido di un trend di un trend forte sia nella versione long che nella versione short e poi qui vedete tutto un po' una serie di analisi sto esaurendo anche la ok trovate un po' di cose trovate anche un po' di slide che vi identificano le varie possibilità le varie tipologie di correzioni che ci possono essere sul mercato le correzioni a forma di flag che abbiamo visto le correzioni a forma di ABC i triangoli i rettangoli e così via trovate soltanto più o meno alla fine vedrete che il comportamento del mercato poi essendo un comportamento ciclico alla fine cambia lo sviluppo grafico ma le cose fondamentali non cambiano cioè il mercato strappa rialzo con volumi elevati inizia un movimento laterale se quello è un movimento laterale che precede un nuovo impulso al rialzo quel movimento laterale deve avere dei volumi molto bassi quindi un movimento in cui si scarica la volatilità volumi indeboliscono poi quando c'è l'accelerazione in breakout deve esserci un rafforzamento nuovo della forza dei compratori che mi indica che quel mercato ha tutta la forza per continuare a salire mi permetto mi permetto di segnalare questa in uscita il 23 maggio in realtà saranno due uscite saranno due libri editi da Milano Finanza e da Epli Editore questo sarà diciamo analisi tecnica chiamiamola di base intermedia quindi parla delle cose che abbiamo visto oggi in maniera proprio più o meno come l'abbiamo viste oggi con degli esempi didattici e così via uscirà appunto il 23 maggio in realtà nell'uscita se non sbaglio dell'8 di giugno troverete una sintesi di questo libro un centinaio di pagine legato gratuitamente a Milano Finanza e lo troverete in edicola quando andate a comprare il regalo per chi ha partecipato oggi questo ti assumi la responsabilità invece la parte avanzata quindi la costruzione di strategie operative per chi già fa trading sarà il secondo volume che uscirà per esumo ottobre o giù di lì e questo era quello che vi ci sia però là che uscirà